Santo Pellicano, artigiano gioiese, parliamo di questo museo che lei ha qui a Gioietauro. Sì, questo museo è stato creato da me e dall'ingegnere Marino. Siccome aveva dei pezzi antichi, documenti e cose varie, lo spazio era bellino, insomma, che l'avevo creato io con le mie mani, abbiamo fatto questo mini museo delle tradizioni locali, dove c'è il telaio, c'è la conocchia, ci sono strumenti, attrezzi vari, delle agenti del posto soprattutto, artigiani che ormai sono scomparse tutti, da Fallegnami a Fabri, maestri carrozzieri, che aggiustavano le carrozze dei nobili di un tempo. Mio padre era uno di quelli. Ecco, Piano delle Fosse, non è conosciuto da tutti, è nel cuore di Gioietauro. Sì, è la parte più alta, 30 metri sul mare, una roccia, i terremoti hanno distrutto tutte le popolazioni intorno dei paesini, invece qua il terremoto non l'ha toccato per niente. Infatti il professore Ruggero, un geologo, abbiamo evidenziato questo fatto qua, che c'era il palazzo Grimaldi, poi Tripò d'Esteraci, che era una famiglia antica di Gioietauro, molto conosciuta, i nobili. Lei è rimasta qua nel terremoto del 1783, la nepote, mentre la zia era in città nuova ed è morta, che il palazzo si è crollato completamente, invece potete vedere che è rimasto intatto da allora. Grazie.